la coda va un po' largo coletto larghissimo la classifica di gara 2 della resata coletto e si è avvicinato ulteriormente al rivediamo quello è proprio eduardo buccellari che si si è avvicinato Iole Bassi, Matteo Costini e Edoardo Porcanale con un amore di camera per il video. Grazie. Quindi ti dà uno stimolo per rilanciare e dire che voglio conoscere le cose. Eh, si trova duri? No, dobbiamo fare una balotta. Non so così. No, dobbiamo fare una balotta.